Ciao a tutti, sono Eleonora e sono nel parco vicino casa dove vengo sempre a correre. Sì, vabbè, non ci crede nessuno. In realtà ci vengo a studiare e a scrivere in questo villino che vedete dietro di me. E amo scrivere perché credo che con le parole si possa dire tutto. E i miei idoli indiscussi sono J.K. Rowling, Giacomo Leopardi e Van Gogh. Sono molto felice di essere tra i semifinalisti del Campiello e ci vediamo a Verona. Ciao!